provare a ripartire nel lunch match della trentesima giornata contro il mantova questa la missione del modena benvenuti al braglia un saluto dal vostro salvo fratello tu li si è affrontato da due avversari prova la conclusione giro palla fuori avanza sulla destra bearzotti prova un traversone lungo ci arriva corrati che la rimette al centro per tulissi tiziano tulissi sblocca il risultato modena in vantaggio dopo un quarto d'ora 1 a 0 bearzotti sulla destra affronta silvestro converge sul sinistro calcia facile per tosi di molfetta all'indietro per guccione che prova la conclusione strozzata sul fondo allarga castiglia verso mignanelli mignanelli prove traversone per castiglia colpo di testa che non inquadra lo specchio di luca castiglia ancora il cross al centro allontana la difesa del mantova allora gerli allarga verso bearzotti che spara altissimo lucas il traversone verso zigoni che al prolunga verso guccione esce gagno bene e poi allontana gerli guccione dalla bandierina la prolunga milillo sul secondo pallo del pallone arriva 100 zigoni la inchioda lì gagno attacca ancora castiglia prova la conclusione al volo palla fuori servizio per mignanelli buca milillo mignanelli è solo davanti al portiere tosi respinge salva il mantova arzotti riceve sulla destra prova il traversone allontana checchi controlla tulissi affronta ancora silvestro tulissi prova la conclusione palla sul fondo avanza guccione sulla destra affrontato mignanelli guccione si accentra proprio una conclusione il rimbalzo beffa gagno pallone in fondo al sacco uno a uno al 51esimo tredicesima rete di filippo guccione il mantova impatta al braglia allontana ingegneri il pallone avanti respinge ancora la difesa ci prova con radi da centro capo incredibile stava venendo fuori un euro gol per il modena radi avanza prova la conclusione palla sul fondo ancora con radi tulissi affronta gerbaudo lo salta ancora tulissi punto un altro avversario fermato poi il pallone arriva muroni tosi la tiene lì palla al centro allontana gerbaudo arriva gerli palla alta il pallone verso guccione che la mette al centro zigoni e solo gagno incredibile intervento salva il risultato gagno ancora uno a uno respinge troppo corto berzotti allora ne può approfittare silvestro tra le braccia di gagno il lancio verso mignanelli la mette giù la tiene in campo il traversone al centro lupi di testa palla sul fondo riceve il pallone gerli sul vertice dell'area prova gerli torsi in calcio d'angolo modena vicino al vantaggio e finisce qui triplice fischio il modena impatta uno a uno con il mantova ottiene il sesto pari della sua stagione sale a quota 54 si torna in campo mercoledì 17 marzo a bolzano contro il sul tirol grazie a tutti